Salve, sono Silvia Febbraro, volontaria del Servizio Civile Universale presso il Centro Rusto di Futura, progetto Chiara Corbella Petrillo, della sede PIP Valencia. E gli altri volontari, Simone, Antonio e Giovanni, volevamo comunicarvi che presso il nostro centro è attivo lo sportello d'ascolto, attraverso il quale potrete avere assistenza sia fiscale che previdenziale, ma anche assistenza di qualsiasi altro genere, visto soprattutto la situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Per qualsiasi informazione potrete rivolgervi attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, da lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14.